Primo video del 2022 e come l'anno scorso parliamo della tournée di quad trampolini, manifestazione importantissima nel salto con gli sci che si è conclusa ieri a Bischof Schofen in Austria per il trionfo e il dominio di Ryo Kobayashi. Il saltatore nipponico ha veramente scherzato la concorrenza e si è giudicata la seconda aquila d'oro della carriera ed è un record perché mai nessun saltatore non europeo prima di Kobayashi ieri aveva ottenuto questo trofeo per due volte. Una tournée storica da un certo punto di vista e poteva essere ancora più storica visto che fino alla qualificazione di Bischof Schofen si dava veramente tanto adito e l'impressione che Kobayashi avesse potuto realizzare il grande slam. Grande slam che peraltro il nipponico ha già realizzato nell'unica tournée vinta della carriera. Per chi non conoscesse questo sport sappia che il grande slam è aggiudicarsi la tournée dei quad trampolini vincendo tutte e quattro le tappe della manifestazione. Kobayashi ne vince soltanto tre nella quarta, conclude alla quinta posizione della classifica ma cambia poco perché il dominio del giapponese è veramente stratosferico perché il secondo classificato si prenderà 24 punti di distacco su 8 salti da Kobayashi e il terzo classificato 31. Perché se andiamo a verificare il podio della tournée dei quad trampolini 2022 ci sono nomi di un certo livello a parte Kobayashi I di cui abbiamo già parlato ci sono Mario Slinvik II e Alvaro Eder Gandelud III tutti e due rappresentati per la Norvegia. Una Norvegia che è arrivata a questa tournée con dei materiali ottimi e possono essere veramente un cavallo importantissimo soprattutto per quelle a manifestazioni nel corso della stagione che daranno in paglio titoli e medaglie. Mi viene in mente le olimpiadi e i mondiali di volo con gli sci che ci saranno rispettivamente a febbraio e a marzo. Scandinivi che hanno provato il miracolo con Lindvik per una rimonta pazzesca che però si è arenata al termine della prima manche di Bischofshofen. Era una tournée che prima dell'ultima tappa austriaca aveva questi due grandi interrogativi. Kobayashi poteva riuscire a fare il grande slam per la seconda volta consecutiva e realizzare qualcosa che non era mai successo e allo stesso tempo anche Lindvik poteva realizzare qualcosa che non era mai successo prima perché nessun saltatore aveva mai rimontato 19 punti di vantaggio all'ultima gara di Bischofshofen. Una tournée che comunque in lampi qua aveva aggiunto l'impressione che Kobayashi avesse potuto evidentemente avere la meglio sugli avversari con dei salti pazzeschi distribuiti su più tappe che andremo ad analizzare secondo oramai la solita grafica di Wikipedia inglese che farà da recap alla tournée dei quadro trampolini e mi darà una mano nel commentare quello che è successo. Una tournée peraltro abbastanza particolare perché a differenza degli altri anni dove la terza tappa si è dovuta correre di fatto sempre a Innsbruck qui la tappa del Tirol è stata annullata per un vento incredibile che non ha permesso di disputare la gara effettivamente vera e propria e di conseguenza l'organizzazione ha deciso di recuperare il 5 gennaio con una seconda gara a Bischofshofen dove si sarebbe dovuto gareggiare anche il 6 gennaio. Di conseguenza doppia Bischofshofen con nuova qualificazione e nuova gara che andava diciamo a stravolgere tutti gli equilibri in campo perché Innsbruck è un trampolino molto diverso da Bischofshofen Innsbruck è un HS128 e Camp 120 dove la spinta conta tantissimo e conta moltissimo lo stile Bischofshofen invece è un trampolino molto di grandi dimensioni e più propenso ai volatori e infatti in alcune occasioni si è visto comunque due gare a Bischofshofen potevano essere una cartina di tornasoli importante per i norvegesi perché appunto erano arrivati in condizione a questa tournée e i risultati delle varie tappe lo dimostrano ma contro lo shogun Ryoïo Kobayashi c'era veramente poco da fare in questa tournée una tournée che Kobayashi ha dimostrato di vincere in condizioni diverse e mettendo sempre qualcosa in più a partire dalla prima gara, quella di Oberstdorf dove appunto Kobayashi vince di di fatto poco più di 3 punti rispetto ad Alvar Granul che comunque aveva strassaltato ma Kobayashi si inventa veramente un salto mostruoso soprattutto nel secondo di Oberstdorf dove di fatto vola letteralmente in piano a 141 metri asfaltando un Alvar Granul che comunque aveva strassaltato ripeto nella seconda serie una prima tappa della tournée che comunque non dava già l'impressione che Kobayashi potesse attentare a qualcosa di incredibilmente storico di certo l'impressione che appunto il nipponico era l'uomo da battere su qualunque condizione perché appunto in questo momento storico Kobayashi è sicuramente l'uomo da battere e lo ha dimostrato vincendo tante qualificazioni sia in Coppa del Mondo sia in questo tournée secondo in questa tappa di Oberstdorf è stato Alvoret del Granul che comunque ripeto finirà terzo al termine della tournée e terzo è Robert Johansson per una Norvegia che comunque ne piazza tre diversi sul podio e mai nessuna squadra delle big nazioni se vogliamo usare questo termine ha evidentemente evidenziato questa costanza di rendimento quarto è quel Marius Lenzig che è arrivato alla tappa della tournée conclusiva con una missione impossibile poi purtroppo vanificata ma comunque il norvegese dimostrerà di essere un uomo sul pezzo e attenzione all'invi quando ci saranno in palio medaglie pesanti mi vengono in mente le gare sul trampolino piccolo e grande individuali di Pechino 2022 è stata comunque una prima tappa tournée interessante perché comunque Kobayashi ha dato il là per riconquistarsi il pettorale giallo di Coppa del Mondo perché il suo più grande rivale in questo momento ovvero Kargeiger nella prima tappa di fatto non va nemmeno al podio e su una Coppa del Mondo rispettata così alto livello fare terzo o fare quinto cambia veramente tantissimo e Geiger evidentemente non ha veramente rispettato le aspettative e sesto invece è un saltatore sloveno chiamato Lovrokos di cui risentiremo parlare tanto e non soltanto in questa tournée perché Lovrokos farà podio nella gara successiva ma farà anche tanto parlare di sesso secondo me già a partire da queste Olimpiadi un podio dove anche qui vediamo Kobayashi vincitore qui parliamo della gara di Garmisch ma è una cosa incredibile considerato che il vantaggio della gara di Garmisch è sostanzialmente di due decimi, un'inezia ma Kobayashi qui ha avuto il merito di costruire il vantaggio della prima serie di gara con un salto veramente incredibile a un metro il record ufficiale del trampolino che è 144 metri Kobayashi si ferma solo, tra virgolette, 143 e deve però affrontare un avversario di tutto il rispetto che non è un norvegese ma è Markus Eisenbichler che anche lui a Garmisch era probabilmente uno dei pochi che poteva battere Kobayashi e a momenti ci riusciva, si inventa Eisenbichler un secondo salto pazzesco a 143 metri e mezzo con di fatto il secondo miglior salto della serie perché il miglior salto lo realizza il terzo classificato ma Eisenbichler veramente ha un passo da rovinare quello che alla metà della tournée, al giro di Boa era di fatto un grande slam appunto a metà dell'opera terzo è quel Lovrokos di cui abbiamo detto poco fa Lovrokos è una grande storia è un saltatore sloveno classe 1999 di fatto è un esordiente e in Slovenia già si esordisce in Coppa del Mondo vuol dire che sei veramente bravo la Slovenia ha una grandiosa abbondanza di saltatori atleti che possono competere tranquillamente in Coppa del Mondo e molto spesso vediamo saltatori sloveni che entrano in Coppa del Mondo e vanno a punti una profondità così di movimento ce l'ha praticamente soltanto l'Austria e infatti si vedrà anche nell'età austrica della tournée ma Lovrokos di fatto da semidebuttante pronti via alla tournée podio con un salto pazzesco di 147,6 punti totali il migliore della seconda serie di Garmisch che appunto gli confeziona una grande soddisfazione Lovrokos sarà una delle grandi sorprese di questa tournée e anche lui paradossalmente fino alla seconda serie di Bischof Schofen gara 1 sarà anche lui in lotta per la tournée Koss in realtà si chiamerà fuori e di fatto a Bischof Schofen gara 1 ci sarà poi una lotta tra Kobayashi e Lindvik anche Lindvik ha beneficiato paradossalmente del cambio di gara da Innsbruck a Bischof Schofen perché essendo un trampolino più adatto ai volatori evidentemente i norvegini sono trovati alla grande infatti Lindvik secondo e Grandelud terzo peraltro il podio di Bischof Schofen gara 1 sarà il podio ufficiale della tournée ma il primo è sempre soltanto lui Ryojo Kobayashi che qui veramente con due salti magari ordinari ma comunque superiori rispetto alla concorrenza che comunque era già di altissimo livello dimostra veramente di essere l'uomo da battere anche in questa occasione e qui il vantaggio se nella gara precedente era di due decimi qui è di fatto di cinque punti ed è comunque tantissimo cosiddetto che appunto di fronte c'è Lindvik uno che comunque ha già vinto due gare della tournée e anche stavolta è finito sul podio della classifica della tournée e fare otto salti ad alto livello è veramente difficilissimo soprattutto perché abbiamo detto più volte i trampolini della tournée cambiano spesso di contesto e soprattutto con condizioni di meteo più o meno differenti hanno dei vantaggi per diversi saltatori non per evidentemente i grandi saltatori come appunto Kobayashi Lindvik, Eisenbichler, Geiger e Gramerud in particolare ma soprattutto Bischoff-Schofen dice bene ai protoni di casa all'Austria che redivivono dopo due tappe della tournée orrende soprattutto con il leader Stefan Kraft che non è diciamo risultato un saltatore di livello per questa tournée ma scopre un grande Janörl che farà tantissimi piazzamenti nelle prime dieci posizioni in praticamente tutte le tappe scopre un Michael Eibach che è al esordio nuovo in questa stagione dopo una pausa forzata per infortuni e un ritardo di condizione Eibach faceva parte dei fanno delle wildcard austrie che è alla gara di Bischoff-Schofen 1 e si qualifica per 49esimo penultimo dei qualificati dopodiché c'è spazio per un accoppiamento da ripescaggio e Eibach alla fine concluderà la serie in nona posizione veramente tanta tanta roba per uno che di fatto la prima teccezione di fatto l'ha guardata dalla Coppa Continentale il miglior ostrico però è questo ragazzo si fa per dire Emanuel Fetter 36 anni che a 21 anni di distanza Bissa è il miglior usato in carriera Bischoff-Schofen una quinta posizione incredibile per il grande veterano per un'Austria che comunque con una squadra magari non di nomi altisonanti ma comunque molto costante può dare assolutamente fastidio per le medaglie che contano e dunque anche per loro attenzione a Pechino 2022 ma così come attenzione a questo ragazzo Ryoyo Kobayashi perché abbiamo detto sì è vero ha vinto la tournée non fa il grande slam perché nell'ultima gara finisce quinto in una vittoria incredibile di Daniel Luber ma Kobayashi ha tutte secondo me le carte in regola per fare il poker di titoli da conquistare quindi titolo olimpico su trampolino piccolo grande scegliete voi Coppa del Mondo mondiali di volo con le scie e la tournée l'ha già vinta ma l'ha vinta veramente per distacco perché appunto il secondo della classifica già aveva la tournée Marius Lindick prende 24 punti e Grano ne prende 31 in una gara di Bischofen 2 dove però Kobayashi non fa praticamente il Kobayashi fenomeno dominante si accontenta tra virgolette di due salti ordinari e c'è spazio dunque per gli altri in particolare per Daniel Luber che festeggia la prima vittoria della carriera peraltro in casa con due salti veramente perfetti due salti costanti 136 e mezzo il primo 137 metri il secondo con il miglior potente della serie di fatto in entrambe le manche e Uber ha ragione di Alvor Granrud altro saltatore che abbiamo detto sta tornando quello dell'anno scorso non è ancora arrivato a dominare tutte le gare come l'anno scorso perché battere questo Kobayashi è complicatissimo in ogni caso Alvor Granrud in questa tournée si è presentato con materiali egregi e infatti si è visto anche nel podio complessivo terzo è Kargiger che dunque fa un ottimo risultato in ottica Coppa del Mondo Kargiger esce dalla tournée con il secondo posto generale era entrato come leader della classifica generale di Coppa del Mondo ma appunto Kobayashi ha vinto tre gare su quattro e Galgiger ha fatto comunque piazzamenti importanti sì è vero pochi podi ma contro questo Kobayashi era veramente veramente complicato per un Marius Lindvik invece che deve abdicare alla tournée dopo la prima serie della gara 2 di Bischofshofen 126 metri sono pochissimi per gli standard espressi dal norvegese che però avrà modo di rifarsi con il miglior salto della serie partendo di fatto dalle retrovie facendo un salto alla Lindvik costante di pulizia tecnicamente perfetto 139 metri per il norvegese e 147,8 punti della serie singola che gli permettono di rimontare dalla ventitresima posizione fino alla decima che comunque è importante per un piazzamento di prestigio e per un podio che appunto recita di nuovo così Ryojo Kobayashi primo in contrastato con tre vittorie clamorose per un modo o nell'altro su quattro gare 1182 punti per il giapponese per cui suona il Kimi Gayo ricordiamo che Kobayashi è il primo non europeo a vincere l'Aquila d'Oro per due volte cosa che non è mai successa appunto a un saltatore nato al di fuori dai confini europei seconda posizione dal tournée per Marius Lindvik che comunque in questo contesto è dimostrato di essere un uomo da battere e comunque oggi è stato battuto ma comunque Lindvik è ancora giovane quindi può dare tanto ancora una volta al salto norvegese e terzo appunto è Alvor Grandolo per una Norvegia che comunque ridendo e scherzando ne piazza tre nei primi sei un po' come fece la Polonia qualche anno fa anzi in realtà l'anno scorso dove appunto ne piazzò addirittura quattro nei primi sei posti una Polonia che è veramente la grande delusione di questa tournée una Polonia che è sparita non è per niente paragonabile alla squadra corazzata degli altri anni ha fatto veramente fatica anche a conquistare i risultati di un certo livello basti pensare il grande saltatore della Polonia contemporanea non si è neanche qualificato nelle gare precedenti alla tournée e quando l'ha fatto l'ha fatto con prestazioni scadenti a dir poco e di fatti Stock nelle ultime due gare della tournée non l'abbiamo neanche visto in alcune gare sì è vero avevamo tre polacchi qualificati nella seconda serie ma il migliore era addirittura diciottesimo quindi i risultati da squadra da seconda fascia cosa che invece non dovrebbero esserci per una superpotenza come appunto è la Polonia è mancato anche il leader austriaco Stefan Kraft che si dice infatti si possa prendere una pausa post Bischof Schoff in Coppa del Mondo infatti si correrà di nuovo sabato sempre nella stessa qualità l'Austria comunque è molto più in sud della Polonia che ha trovato in Janörl e in Daniel Ubr soprattutto due cavalli da battaglia per quanto non facciano della costanza il loro punto di forza gli altri piazzanetti da tournée li andiamo a recapitolare velocissimamente Carl Geiger è quarto con prestazioni costanti Geiger comunque è uno che sa difendersi e a volte anche attaccare su più contesti ricordiamo che Geiger è andato a medaglia in tre mondiali diversi mondiali normali mondiali di volo e anche altri contesti appunto vedi per esempio mondiale trampolino grande quinta posizione per Marco Eisenbicler per una Germania che poteva evidentemente sfatare il tabù delle vittorie a Garmisch e a Bischof Schoff ma Eisenbicler nella prima gara venne battuto di due decimi di punto quindi veramente un'incollatura nella seconda Geiger la butta via con un salto pessimo da primo va terzo ed è per questo anche che Daniel Ubr di fatto è il vincitore della gara di Bischof Schoff in due Robert Johans abbiamo già letto sesto settimo Lovrokos il miglior sloveno completamente a sorpresa in una slovenia dove ci aspettavano altri saltatori vedi per esempio Timi Zajc o Ancel Anisek spunta Lovrokos che veramente aveva le carte in regola anche per giocarsi il podio della tournée fino di fatto a tre quarti della competizione e poi anche lui purtroppo si è ecclissato ottavo Jan Oerl che comunque non fa podi ma comunque fa pensamenti costanti nono Daniel Ubr con la vittoria della gara Bischof Schoff in due va a Isarzi nella top ten e chiude appunto la stessa top ten Yukiya Sato che è il secondo giapponese più in forma per una formazione del sollevante che deve comunque rituzzare il terzo e il quarto di un'eventuale squadra olimpica perché abbiamo Nokina Kamura che comunque è un ottimo elemento ma anche il quarto al momento Keichi Sato è molto deficitario però Yukiya Sato può essere un outsider una mina vagante anche per le olimpiadi di cui comunque parleremo nel prossimo Nordic Podcast concludiamo la recensione diciamo e l'analisi della tournée di Paolo Trampolini con alcuni saltatori da citare in particolare i nostri atleti italiani ne avevamo due nella tournée di Paolo Trampolini Alex Insam e Giovanni Bresadola Alex Insam purtroppo non si è mai qualificato per le competizioni ricordiamo che alla tournée e in Coppa del Mondo in generale passano i primi 50 Insam è andato tra la 55esima e la 60esima posizione in media quello che fa comunque migliorare rispetto alle altre prestazioni di Insam è il distacco dalla qualificazione se l'anno scorso Insam prendeva paga da chiunque quest'anno gli mancano pochi punti per arrivare alla qualificazione manca da fare quello step in più per ritrovare qualche sensazione del passato e ci sarà comunque modo per il gardonese di migliorare è migliorato tantissimo invece Giovanni Bresadola che fa una impresa nel nostro piccolo perché l'Italia nel salto con gli sci ha un movimento molto molto risicato e comunque Giovanni Bresadola è riuscito a qualificarsi in tutte e quattro le tappe della tournée ed è una cosa molto interessante perché le qualificazioni della tournée sono le più difficili di fatto della stagione perché ci sono 50 posti e ai nasi di partenza quest'anno avevamo 78 atleti nelle gare tedesche e 77 nelle gare austriache considerato che ci sono le wild card tedesche austriache che hanno chance di appunto ottenere spesso qualificazioni e anche punteggi in zona punti è veramente complicato per le nazioni di seconda fascia arrivare a qualificarsi Giovanni ce l'ha fatta in quattro gare su quattro e a momenti arrivava a punti nell'ultima gara di Bischof Schofen peccato ma ci sarà modo per rifarsi perché anche per Bresadola ci sarà la gara di Coppa del Mondo di domani sabato concludiamo dunque con l'ultimo ricapitolo prima di concludere il Nordic Podcast e parliamo della Coppa del Mondo di salto con gli sci che dunque di conseguenza va avanti ricordiamo che sì la tournée ha un valore specifico a sé stante ma queste gare della tournée valgono anche per la Coppa del Mondo e dunque Kobayashi è il leader anche della generale con appunto queste tre vittorie su quattro gare e 841 punti in totale secondo è Karl Geiger che comunque abbiamo già detto è costante e non va mai dato per morto soprattutto negli eventi dove ci sono in pagno medaglie si riscattano i norvegesi con Alvor Granderud che sta tornando ed è terzo a 113 punti di distacco sono tanti 200 passapunti da recuperare in ottica Coppa del Mondo ma comunque anche attenzione a lui così come attenzione a Mario Slienvik quarta 543 punti quinto è Bichler con 471 sesto è Hans Schellanis che è mancato in questo turnè ma la Slovenia ripeto ha avuto modo di rifarsi con gli interessi con Lovro Kos è mancato Stefan Kraft che comunque è settimo in classifica generale ottavo è Jan Oerl uno dei metronomi costanti dell'Austria nono è Robert Johansson che comunque è il podio nella turnè della porta da casa e decimo è Kylian Peyer che comunque ha fatto una buonissima turnè per essere appunto rappresentante della Svizzera che è una nazione di fatto che è appena dietro superpotenze Germania Austria Norvegia Polonia Giappone Slovenia in ogni caso una coppa del mondo andrà avanti con il seguente calendario prima delle olimpiadi che sarà il prossimo appuntamento con il Nordic Podcast sabato ci sarà la seconda gara di Bischof Schofen o meglio la terza in programma in pochissimi giorni poi si andrà a Zakopane per un'unica gara individuale a Sapporo non si gareggerà causa restrizioni per il Covid-19 dunque ci sarà un recupero a T-19 in Germania e poi si rimarrà in Germania per l'appuntamento di Willing in una dei più spettacolari della stagione prima delle olimpiadi di Pecchino di cui ripeto parleremo per quanto riguarda sia il salto a quelli sci sia la combinata nordica in ogni caso questo primo Nordic Podcast questo primo video del 2022 termina qui il saluto da parte di Minutolgaard fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video